L'emergenza pandemica non ferma l'estro e la creatività, la voglia di sorridere alla vita e ritornare bambini, anche solo per un attimo. Per questo la storica kermesse carnevalesca della mascherina d'argento, giunta quest'anno la sua 53esima edizione, si svolgerà sulla piattaforma digitale e sarà trasmessa in anteprima dalla nostra emittente televisiva di Onda TV, che diventa il nuovo teatro dello svolgimento dell'evento per via dell'emergenza. Quest'anno niente maschere, ma solo mascherine, che ormai, praticamente da un anno, nascondono sorrisi e condizionano gli sguardi. Ma il virus non può cancellare la magia del carnevale, almeno nei cuori si intende perché c'è poco da festeggiare. La manifestazione da remoto si svolgerà domenica 14 febbraio alle ore 19, in diretta per l'Abruzzo, sul canale 18, le digitale terrestre, Onda TV e su streaming, sulla sezione web del sito www.ondadv.tv, sulla nostra pagina Facebook. La partecipazione dei bambini con età compresa tra 10 e 10 anni sarà gratuita, e in queste ore già sono arrivate moltissime adesioni. Quest'anno tra le presenze d'eccezione spiccano quelle del testimonial Beppe Convertini, della madrina Francesca Cipriani, del conduttore televisivo Anthony Pett. Non mancheranno, sempre nella versione online, le performance del mago Foster Music & Dance. La conduzione dell'evento, dagli studi della nostra emittente, è affidata al noto presentatore Luca Di Nicola, ormai volto noto della mascherina. L'anno scorso è stato l'ultimo evento prima della pandemia. Quest'anno, seppur con la formula digitale, ci auguriamo che sia l'evento della rinascita, afferma Ivan Antonio Giambietro, della Venus Entertainment, direttore artistico e patron della manifestazione. Ogni concorrente avrà un premio, anche se l'obiettivo è quello di strappare un sorriso ai bambini affetti da tumore osseo. La mascherina, infatti, mantiene il suo carattere solidale. Quest'anno l'Associazione Culturale Internazionale ha sposato la causa dell'ISOS ONLUS, ovvero dell'Associazione Italiana dello Sturio dell'Ostosarcoma, una forma di tumore osseo ad alto grado di malignità che colpisce per lo più bambini. La manifestazione Godere è patrocinio dei comuni di Pescara e Sulmona e della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. Il virus ha cambiato abitudini e stile di vita, ma non può togliere il sorriso ai più piccoli.